Salve a tutti, abbiamo già visto in precedenti tutorial le migliorie portate allo strumento pennello con le nuove versioni ma voglio completare l'argomento in quanto molti mi hanno scritto che non riescono ad utilizzare e trovare i pennelli che erano presenti in versioni precedenti e vediamo quindi come muoverci e organizzare i nostri pennelli. Partiamo quindi con l'aprire il nostro pannello dei pennelli selezionandolo con il tasto B oppure qui dalla nostra barra degli strumenti vedete strumento pennello e qui sopra in alto possiamo aprire il nostro pannello o qui dalla freccetta vedete ecco qua che noi possiamo aprire il nostro pannello che possiamo modificare in grandezza, allargare e diminuire e qui ci troviamo tutti i nostri pennelli di default in Photoshop. Un'altra possibilità per aprire il nostro pannello la possiamo avere vedete qui all'interno del nostro riguardo premo il tasto destro del mouse, una volta sempre selezionato nello strumento pennello però all'interno del nostro riguardo premo il tasto destro del mouse e ecco qui che abbiamo il nostro pannello aperto come vedete non è spostabile in questo caso qui. Adesso richiudo però guardate se adesso io per esempio il premo qui su in alto ecco qua che lo posiziono qui sopra se invece lo premo qui sotto in basso verrà posizionato dove premiamo il nostro pulsante del mouse quindi qui su in alto premo col tasto destro del mouse. Quindi questa finestra vedete non è ancorata però come dicevo prima si può naturalmente ingrandire e diminuire ma non si può spostare. Come notate troviamo i nostri pennelli raccolti in gruppi. Ogni gruppo vedete noi lo possiamo aprire qui dalla nostra friccetta apriamo e vengono visualizzati i singoli pennelli. Questa visualizzazione la possiamo aumentare alzando e abbassando lo slider vedete qui sotto posto qui sotto in basso vedete aumentiamo e diminuiamo le dimensioni della visualizzazione. E inoltre qui se premiamo sulla lotellina per le nostre impostazioni qui abbiamo varie voci possiamo visualizzare il nome del pennello ecco qua che adesso abbiamo anche il nome e poi vedete abbiamo già spuntato la punta del pennello che vedete è la punta del pennello poi abbiamo anche il tratto pennello se siete più comodi visualizzarlo così quindi abbiamo la punta del pennello, il tratto del pennello e anche il nome. Per adesso mettiamo solo il nome e la punta del nostro pennello e la grande novità delle nuove versioni 2018-2019 è la possibilità di organizzare i nostri pennelli in gruppi e vi siete accorti che abbiamo già dei gruppi che noi possiamo modificare vedete ecco qua possiamo inserirci sopra col tasto destro del mouse poi anzi scusate ecco qua eliminare il gruppo, rinominare il gruppo oppure creare un nuovo gruppo pennelli. La stessa cosa sempre qui dalle impostazioni lo possiamo ottenere anche da qui vedete con il nuovo gruppo pennelli rinomina gruppo, elimina gruppo. Proviamo a creare un nuovo gruppo ci sistemiamo vedete qui tasto destro del mouse e poi nuovo gruppo pennelli e lo denominiamo, qui possiamo dare il nome, miei pennelli quindi miei pennelli e premiamo invio. Ecco che qui si è aggiunto il nostro gruppo vedete miei pennelli se apriamo un altro gruppo noi possiamo prendere un pennello qualsiasi trassinarlo e andarlo ad inserire dentro la nostra cartella appena creata cioè quella dei nostri pennelli e altrettanto naturalmente possiamo rimetterlo al suo posto. Naturalmente oltre all'eliminazione del nostro gruppo oppure rinominare il nostro gruppo noi possiamo anche fare la stessa cosa con il singolo pennello questo è il pennello vedete tasto destro del mouse ecco qua che possiamo eliminare il nostro pennello e rinominarlo adesso proviamo ad esempio ad eliminare il nostro gruppo quindi i miei pennelli questo lo elimino elimina gruppo e lo eliminiamo e vedete ho eliminato una singola cartella cioè un singolo gruppo altrimenti se io mi posiziono qua come con i livelli noi possiamo premere il tasto control vedete per selezionare due gruppi oppure mi posiziono qui sul primo e sull'ultimo premio il tasto maiuscolo e control seleziono tutti e quattro i gruppi sempre poi il tasto destro del mouse e poi eliminiamo il gruppo e diciamo di sì adesso non preoccupatevi perché faremo ritornare i nostri pennelli di default andando qui sempre nelle impostazioni con la nostra rotellina e ripristina pennelli originali se clicchiamo qui vedete ritorniamo con i nostri pennelli di default adesso io li elimino ancora e andiamo a vedere dove sono andati a finire i vecchi pennelli che usavamo prima e quindi sempre qui dalle impostazioni andiamo a selezionare strumenti predefiniti precedenti convertiti clicchiamo qui e abbiamo anche pennelli precedenti vediamo la differenza quindi strumenti eccolo qua e qui abbiamo vedete i vecchi pennelli strumenti predefiniti originali aerografi artistici poi qui abbiamo pennelli dp matita eccetera e poi dunque vediamo qui sotto pennelli ecco qua che abbiamo tutti i pennelli che avevamo prima adesso vediamo qui andiamo sempre qui nelle impostazioni proviamo pennelli precedenti diciamo facciamo ok e qui anche nei pennelli precedenti vedete abbiamo sempre pennelli originali vari di base e altri pennelli che avevamo nelle versioni precedenti quindi segnete voi i pennelli che volete visualizzare e caricate quelli che più vi interessano ora prendiamo un pennello questo qui qualsiasi di base prendiamo questo e poi da qui vedete possiamo aumentare la dimensione e la durezza però se cambiamo anche colore vediamo un po' vediamo qua colore poi cominciamo a dipingere vedete e vogliamo salvare questo pennello quindi quando siamo qui andiamo sempre qui nelle impostazioni e poi nuovo pennello predefinito diamo un nome lo scriviamo per esempio base blu e diciamo ok e notate dove si è inserito noi eravamo già qui nella cartella dei pennelli di base e quindi ci ritroviamo il nostro pennello se adesso andiamo a selezionare un altro pennello poi naturalmente cambiamo colore vedete ecco qua se andiamo a riprendere il nostro pennello vi siete accorti che rimane allo stesso colore che avevamo inserito noi eccolo qua col colore appunto asserito come ho detto prima si è inserito qui perché avevamo aperta questa questa cartella se invece non apriamo nessuna cartella e vogliamo salvare il nostro file il nostro pennello quindi nuovo pennello predefinito diciamo adesso stavolta base 2 diciamo base 2 salviamo vedete si posiziona qui sotto a questo punto fuori da ogni cartella quindi a questo punto possiamo prelevarlo ed inserirlo all'interno di una cartella quindi adesso questo qui lo elimino quindi elimina pennello diciamo di sì come andiamo a eliminare qui da quello base quello appena creato elimina pennello e diciamo ok per la gestione dei pennelli in Photoshop troviamo due pennelli pennelli e impostazioni pennelli e vedete qui dalla finestra abbiamo impostazioni pennelli e pennelli adesso apro impostazioni pennelli anzi questo qui prima pennelli e in pennelli gestiamo come abbiamo visto prima i pennelli mentre con impostazioni impostiamo il pennello la punta le dimensioni la spaziatura cioè la forma del nostro pennello e questo lo vedremo poi dopo qui nei pennelli troviamo pulsanti naturalmente qui abbiamo dimensioni gli ultimi pennelli che abbiamo usato le nostre cartelle con l'interno dei nostri pennelli qui tra le impostazioni troviamo anche qui dei pulsanti come creare un nuovo pennello come abbiamo visto prima o anche un nuovo gruppo ricordatevi possiamo creare anche dei sottogruppi ad esempio se io faccio nuovo gruppo pennelli lasciamo gruppo 1 vedete viene creato qui poi dopo naturalmente nuovo gruppo pennelli gruppo 2 poi prendo il gruppo 2 non si riesco qua dentro ecco qua che abbiamo una cartella e una sottocartella con gruppo 1 e gruppo 2 insomma diciamo che siamo abituati a gestire i livelli la stessa cosa in ugual modo qui sotto abbiamo sempre delle iconcine come abbiamo nei livelli vedete dove possiamo creare un nuovo gruppo poi crea un nuovo pennello oppure eliminare pennello anche tramite questi pulsanti qui naturalmente abbiamo già visto e possiamo ingrandire la visualizzazione dei nostri pennelli se ritorniamo ai nostri pennelli di default quindi ripristina pennelli originali diciamo ok qui tra i pennelli secco vedete ci ritroviamo alcuni pennelli di un autocreatore di Photoshop di pennelli Photoshop che potete scaricare gratuitamente naturalmente se siete abbonati e lo potete fare sempre qui dal nostro menu vedete scarica scarica altri pennelli se cliccate qui vi collegate in internet con la dove e potete scaricare tutti i pennelli gratuiti appunto di questo creatore e sempre dall'impostazione possiamo naturalmente importare pennelli dal nostro hard disk cioè quelli che voi salvate scaricandoli da internet ad esempio quelli che potete trovare dal mio sito li scaricate e li potete importare se fate importare pennelli dovete scegliere la cartella dove li avete salvati e importarli per gestire al meglio i nostri pennelli possiamo aprire sempre qui dal menu gestione predefiniti apriamo gestione predefiniti vedete qui abbiamo tutte le nostre cartelle con i nostri pennelli e qui possiamo innanzitutto entrare dentro ad esempio una cartella e poi selezionare un pennello solo oppure col tasto control due pennelli oppure col tasto vedete adesso qui mi posiziono qui maiuscolo e alt selezionarli tutti vedete voi e da qui possiamo eliminare rinominarli oppure salvarli come nuovo gruppo oppure salva set se salviamo il set possiamo creare dei set personalizzati con più pennelli set tra i vari gruppi e salvarli nel nostro hard disk dando anche un nome vedete se io mi posiziono qui apro e posso premere sempre col tasto maiuscolo sclusate control anche questo pennello e lo aggiungo a quelli esserti precedentemente quindi salviamo il nuovo set segliamo dove salvarli e diamo un nome ora chiudiamo e qui ritorniamo nel nostro pennello pennelli e se clicchiamo qui andiamo nell'impostazione dei pennelli dove nel prossimo tutorial vedremo come creare un nostro pennello personalizzato non mi rimane che salutarvi ci vediamo arrivederci grazie a tutti